Tatuare è un'arte, un modo per ribellarsi a un'immagine e diventare chi sia veramente. Un gesto individuale da vivere sulla nostra pelle e su quella che oggi è un po' la nostra seconda pelle, l'auto. Per questo abbiamo chiesto a uno dei più grandi tatuatori italiani al mondo di realizzare cinque auto dedicate a cinque forme di ribellione contemporanea per ribellarsi agli status effimeri, alle mode artificiali, ai like facili, ai media delle fake news, al tempo sprecato. Diventa chi sei veramente. Scopri le cinque BMW X2 Rebel Edition tatuate e rese uniche da Pietro Sella. Grazie a tutti.